I giorni che precedono il capodanno napoletano sono quei giorni in cui ti potessi capitare che mentre stai in coppia lì per riposare o mentre stai in coppia strunzata appena pubblicata dalla pagina facebook del mattino all'improvviso senti BABABAM Se tu non fossi nato e cresciuto in questa città penseresti che è caruto con un missile e il grande buco in area Putin oppure con un grande piegare lì si è zumbato in area Ma essendo che tu hai sempre vissuto a Napoli non ti preoccupi minimamente perché tanto sei abituato Nonostante quasi sicuramente ti è venuto un principio di infarto una tachicardia oppure semplicemente ti cagato sotto rinda a mutande sai che in tutta probabilità non si tratta di un attacco dell'ex Unione Sovietica e nemmeno terroristico ma bensì è che ho chi ti ha muerto che si sta preparando per la notte di San Silvestre Il chi ti ha muerto che si prepara per la notte del 31 sparando le cipolle io non mi sento di giudicarlo Chi sono io per giudicare quel chi ti è muerto? Dovrei esprimere un giudizio su questo chi ti è muerto soltanto perché con la sua cipolla mi ha svegliato mentre mi stavo su un nan che stavo rindolito con Belen che mi sussurrava nell'orecchio Tu si che vales! No amici miei Io non lo giudicherò per così poco Non me la sento di farlo Non sono il tipo Gli voglio augurare invece un felice anno nuovo a lui e a tutta la sua famiglia che possano vivere un 2016 pieno di gioia e serenità dopodiché nel 2017 c'ha da carina a casa in capa Grazie mille! Grazie mille!